Ciao, sono Francesca Petrini, presidente di ASI, promotore dei centri estivi sportivi jump. Il jump è una proposta educativa che si sviluppa durante tutto il periodo estivo ed è dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 14. Ormai da anni seguiamo una metodologia specifica che è il nostro metodo consolidato negli anni che mira ad insegnare l'autonomia, a migliorare l'autostima, tramite un percorso di crescita fatto anche di piccoli problemi da risolvere, di piccole difficoltà che il bambino naturalmente si trova a dover affrontare nello sport, nelle situazioni di gioco libero e nelle relazioni tra coetanei. I centri jump propongono ogni giorno sport individuali e di squadra, questo per far conoscere ai bambini la più vasta gamma di sport possibili e decidere quindi quale sport praticare ed essere protagonisti della propria crescita. La nostra passione per lo sport viene utilizzata come veicolo educativo ed elemento di integrazione. 3, 2, 1, via! Chi si trova con la palla delle maglie verde? I centri estivi sportivi jump sono sparsi in alcune province del territorio marchigiano, in particolare nella provincia di Pesaro Urbino abbiamo dei centri nei comuni di Fano, Colli al Metauro, Pesaro, Vallefoglia, nel comune di Marotta e Mondolfo e nel comune di Monteporzio. Per la provincia di Ancona abbiamo dei centri nei comuni di Senigallia e nei comuni di Montemarciano. Il jump si contraddistingue per il metodo educativo utilizzato all'interno di ogni centro estivo, che ormai è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica. Le attività sportive proposte all'interno dei centri cercano di stimolare il learn by doing, il problem solving e l'outdoor education. I mini jump sono dei centri dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni. La didattica è la stessa che utilizziamo nei centri jump dei bambini dai 6 ai 14, ma l'attività viene riadattata per l'età richiesta. I centri estivi jump non sono solo sport, infatti ciclicamente durante l'estate vengono organizzate delle uscite extra, come l'uscita a Fiabilandia, l'uscita a Mirabilandia, la novità di quest'anno, l'uscita all'acquario di Cattolica riservata ai bambini del mini jump. Organizziamo inoltre delle attività naturalistiche, come l'uscita al furlo o l'uscita survival nel bosco. Un'attività storica invece dei centri estivi jump è la notte in tenda, che è una vera emozione per i bambini. Il jump punta alla realizzazione di esperienze di vita significative come il camp Natura Avventura, che può essere scelto nella formula di 3 o di 7 giorni, tempo che i bambini trascorrono fuori dal contesto famiglia, immersi nella natura e alla ricerca dei propri talenti. Negli anni abbiamo potuto constatare che esperienze forti come il camp cambiano radicalmente la vita e la mentalità dei bambini e li aiutano ad avere un miglior modo di relazionarsi. È molto importante perché sappiamo che i bambini sono il futuro del mondo e c'è quindi bisogno che abbiano un modo di pensare performante per essere felici ed essere guida della propria vita. Lo staff è composto principalmente da insegnanti di educazione fisica, da psicologi e da insegnanti scolastici. Durante l'inverno facciamo formazione e aggiornamento con i migliori specialisti del settore perché lavorare con i vostri bambini è per noi la vita. Se la vita porta a sognare, tu col jump puoi respirare Aria nuova, profumo del mare, questo e il jump sanno giocare Tutti amici in squadra correndo, in un cerchio ognuno sta dentro Fai con noi le vacanze d'estate, sole e mare salta con noi Jump!